Nome e cognome? Leonardo Sarracca della Sampdoria. In che ruolo giochi? Gioco nel centrocampo. Perfetto. Qual è il tuo giocatore che ti piace di più in quel ruolo? Torsby. Torsby? Quindi sei un grande tifoso della Sampdoria allora. Pensi che la Sampdoria possa riuscire a salvarsi quest'anno? Sì. Io ti faccio l'in bocca al lupo a te e anche alla Sampdoria. Grazie. Ti auguro buona serata. Grazie.